questo è un tessuto che ho preso per errore perché non mi piace è di pessima qualità anche se la fantasia è molto bella potete sostituirlo ad esempio con un vecchio indumento quindi comunque un tessuto di recupero non si vedrà all'esterno ho ritagliato un cerchio qui sul canale trovate il tutorial per ritagliare i cerchi di qualsiasi diametro nel mio caso a un diametro di 55 cm quindi sovrappongo con degli spilli e ritaglio anche questa aiuta lasciando circa due centimetri tutto attorno io lo sto facendo con le forbici a zig zag per evitare che sfilacci diciamo più di tanto questa aiuta con un ago non troppo piccolo ed un filo abbastanza robusto ti consiglio questo filo qui questo di poliestere eventualmente mettetelo in doppio però importante che sia robusto faccio un nodino sul fondo ed inizio una cucitura con il punto filza blocco bene e poi ad un centimetro e mezzo un punto dall'altro faccio questo punto su tutto il contorno nel mio caso la trama è abbastanza grossa quindi mi metto anche un centimetro dal bordo se è molto più sottile la trama vi potete mettere anche più vicine però diciamo questo è in influente ecco qui il punto iniziale questo è l'ultimo che io ho fatto quindi posso togliere lago faccia attenzione qui come vedete si richiude in questo modo adesso all'interno inserisco un sacchetto del congelatore è capitato anche un pezzo di stoffa comunque con della lettiera per gatti oppure eccezionale è la sabbia che si utilizza nell'edilizia quindi fare un bel sacchetto questo servirà per stabilizzare il tutto se volete utilizzarlo come fermaporta ma anche come abbellimento per la casa comunque secondo me va stabilizzato quindi vi consiglio di mettere questo sacchetto e poi potete riciclare delle imbottiture che che avete da pancio dei ritagli di queste imbottiture qui anche ritagli di stoffa ecco qua quindi se avete questi ritagli di stoffa anche questi che vengono fuori dalla macchina tagli e cusci potete sistemarlo qui all'interno quindi tiro faccio però attenzione a non rompere il filo quindi fondamentale utilizzare un filo abbastanza robusto allora qui da dove sono partita vi consiglio di stringerlo così in modo da poter chiudere in alto e poi lo sistemiamo all'interno si sistema successivamente e quindi faccio almeno due nodini uno ecco qua un altro modo è quello di tirare per bene se non riusciamo a fare il nodo stringere così e bloccare un lago allora ho tirato la parte alta adesso ridistribuisco anche l'interno quindi chiudo così blocco ecco qua dopo averlo chiuso per bene procedo a distribuire questa parte qui adesso metto un attimino da parte e preparo quella che sarà la decorazione sono questi fiori qui che diciamo avevo in casa come vedete sono dei gambi questi in realtà erano insomma sono anche di buona qualità li ho utilizzati per un po però adesso sono un po stufa di vederli nel vaso e quindi ho deciso di fare invece quest'altra di dargli un nuovo aspetto un'altra venita vedete pure questi qui li vado ad abbinare qui c'è solo un fil di ferro quelli sono effettivamente più robusti preparo sia questo che la parte verde che mi servirà per la decorazione potete combinare anche diversi tipi di allora quindi ho ritagliato tutti questi qui con il gambo di qualche centimetro e poi le varie parti verdi questi in realtà le ho tagliati proprio con la tronchese quindi quella specifica non con questa proprio per evitare di rovinarlo sistema quindi al centro dell'aiuta ok e poi questa parte qui centro e vedere se vedete è centrata come posizione parte alta applico la colla a caldo questo modo così su questo lato e su questo lato qua quindi vedete più o meno a questa altezza qui e fisso per dare proprio una posizione e poi questi vedete si formano quattro angoletti che vado a schiacciare così questo modo si distribuisce in maniera uniforme l'aiuta che poi funge proprio da decorazione ecco qua procedo per quest'angolo e quest'angolo così con la parte di verde o comunque con le foglie bisogna coprire per bene queste parti la base eventualmente mettete anche uno strato di juta sulla parte bassa per coprire questo tessuto però se avete abbastanza diciamo di questi fiorellini più piccoli e di di folle sistematele proprio sulla sulla base così e poi sopra mettete i fiori più grandi anche qui dove rimangono fra un fiore e l'altro sistema delle foglie a creare proprio la composizione quindi sulla base e fra un fiore e l'altro poi man mano che create la composizione siccome dipende proprio dai fiori che avete è evidente che vi dovete regolare in questa maniera qua quindi ho creato una composizione semplicemente applicandolo sulla base cercando di coprirla per bene mettendo le foglie in basso e poi gli elementi principali e un pochino di verde e di altri fiorellini tutti attorno ho lasciato questo fiore qui che mi servirà per un ulteriore decorazione allora qui sul lato posso mettere a queste fasce così di juta oppure queste cordoncini qua siccome questo l'ho preso diverso tempo fa non l'ho effettivamente mai utilizzato pensato di sistemarlo qui attorno vedete faccio così stringo e in questo modo queste parti che rimangono fra virgolette scoperte si richiudono così così si può continuare ulteriormente allora sistemo per bene questa parte qui portandola vedete a restringere questo e a lasciare all'interno in questo modo e faccio un bel fiocco ecco qua e su questo fiocco per esempio posso sistemare uno di questi fiori qui che ho lasciato però questo è del tutto opzionale potete metterlo all'interno oppure si può posizionare qua si può posizionare qui così aspetto qualche istante poi se utilizzate dei fiori nuovi veramente vi potete sbizzarrire nella composizione e nel farli casomai anche un pochino più alti quindi tanto verde e dei fiori che escono dalla composizione io ho utilizzato dei fiori di riciclo un tessuto che non usavo più e questa aiuta che avevo in casa devo dire che in pochi minuti ho ottenuto una bella composizione anche da migliorare però insomma sono abbastanza soddisfatta se vi è piaciuta mi raccomando lasciatemi un bel like condividete il video iscrivetevi al canale io vi aspetto al prossimo tutorial ciao ricapitolando ho preparato un cerchio di stoffa all'interno ho sistemato un peso dell'imbottitura ritagli di stoffa ed ho chiuso tutto quanto per bene ho poi sistemato l'aiuto attorno ho sistemato le foglie in basso e tutti i fiori al di sopra per creare una bella composizione ho poi stretto con una fascia di juta il tutto ed ecco qui la composizione pronta vi piace lasciatemelo nei commenti grazie